I migliori anni è una residenza per anziani dotata di tutti i comfort, con stanze ampie e luminose e servizio impeccabile da parte di personale attento e qualificato. Gli ospiti possono usufruire di servizio di sbrigopratiche e visite mediche specialistiche anche in sede, oltre che assistenza infermieristica 24 ore su 24. Vengono organizzati settimanalmente eventi e attività ricreative di socializzazione all'interno della struttura o gite fuori sede. È possibile anche il ricovero temporaneo o giornaliero. Immersa nel verde della nostra Etna, i migliori anni si trova a Masca Lucia, in via Petrarca 33. Informazioni allo 095 791 48 87 o al 349 245 01 80.